partiti in vantaggio si porta Romantic Tote nei confronti di Bois Oriental quindi all'esterno avanza deciso Top Diligence che all'imbocco della curva passa a condurre sotto la pressione esterna di Isabel Queen in terza posizione si mantiene Romantic Tote davanti a Long Life Elisir quindi ancora Katy Melody con in coda ora Bois Oriental e Siegfriedo cavalli in retta d'arrivo con Isabel Queen che ha preso vantaggio nei confronti di Top Diligence in terza posizione risale all'esterno Long Life Elisir seguita da Romantic Tote all'interno e da musicante a largo quindi Katy Melody più all'esterno anche Black Laser Isabel Queen all'ostecato e sotto l'attacco di Top Diligence a largo dei due si profila Long Life Elisir con vicino anche Romantic Tote del tratto finale sta passando Top Diligence ma reagisce Isabel Queen nel finale Top Diligence Isabel Queen poi vicinissimi per il terzo Romantic Tote Long Life Elisir e Bois Oriental andiamo a rivedere le immagini con Top Diligence che ha lottato estremamente con Isabel Queen e probabilmente negli ultimi metri ha preso minimo vantaggio infatti a rivedere le immagini è chiaro ha vinto il numero 9 di Top Diligence sul 5 di Isabel Queen per il terzo posto molto più difficile tra Romantic Tote all'interno e Long Life Elisir all'esterno e quindi c'è bisogno del risponso del giudice d'arrivo